Il viaggio della Meari di Giancarlo Siani prosegue, lasciando stavolta la sede del mattino per arrivare al PAN, accompagnata da un corteo di biciclette, dove ha trovato posto in una installazione di cui è parte integrante, che offre una breve narrazione per immagini della storia simbolo di Giancarlo Siani, fino ad approvare al tema della libertà di stampa attraverso la proiezione dei suoi scritti che si ricompongono sulle mura e ricostruiscono parole ed immagini di una vita dedicata al diritto di cronaca. Ora qui al PAN vogliamo fare un momento di riflessione con le scuole, riflessione con la città, vogliamo dalla Meari parlare di giornalisti uccisi dalle mafie, giornalisti minacciati dalle mafie dalle camorre, di vittime innocenti della criminalità, vogliamo su questi temi aprire un discorso con la città, un discorso che vogliamo poi continuare a portare avanti da questa città in altre città d'Italia e anche in Europa, vorremmo che il problema della criminalità, il problema della legalità, meglio dire, fosse al primo posto la gente, di chi ci governa, perché questo è il punto centrale secondo me di tutto quello che può avvenire fuori. Comune di Napoli e Regione Campania hanno organizzato insieme questo appuntamento che conteneva anche un dibattito intitolato Taci o Sparo, alla scoperta del giornalismo ad ostacoli, perché in Italia è difficile dire certe cose, con la partecipazione dei giornalisti Ottavio Lucarelli, Lirio Abate, Alberto Spampinato e Giovanni Taranto, mentre fino al 15 ottobre il PAN ospiterà una serie di eventi ed incontri sui temi della libertà di stampa e delle vittime innocenti della criminalità. Fu un viaggio che porta le idee, la passione, il coraggio, la determinazione di Giancarlo Siano, un giornalista precario che non si girava dall'altra parte, che aveva il coraggio di raccontare che altri non avevano il coraggio invece di scrivere. Passati tanti anni, nel 1985 avevo da poco concuito 18 anni, oggi vedere che la sua macchina con cui girava per fare le inchieste, fa il giro del mondo per andare nei luoghi dove altri giornalisti sono stati uccisi, è il segno che la legalità che vive ha il sopravvento sulla morte, quindi che questo parte da Napoli è una cosa che ci riempie il cuore e ci fa ben sperare su come questa città sta affrontando il nodo vero della legalità.